L'amministrazione a Corinti ha ribadito questa mattina il suo impegno sul tema dell'accoglienza ai migranti. Nell'incontro con i giornalisti il primo cittadino e l'assessore Filippo Cucinotta hanno ribadito le difficoltà legate alle mancate risposte del Governo nazionale. Sono state bocciate infatti tutte le proposte avanzate dal Comune che non ha competenze giuridiche in merito né possibilità di intervenire di propria iniziativa. Dopo la pioggia torrenziale di ieri e il conseguente allagamento della tendopoli del Pallanebiolo il primo cittadino ha disposto comunque un'ispezione dell'ASP che è chiamata a verificare le condizioni igienico-sanitarie della struttura che ospita attualmente 200 migranti. 18 le donne, appena 3 i minori, il cui status è in fase di accertamento. Già 38 i minorenni che grazie all'impegno del Comune hanno trovato una sistemazione alternativa e adeguata. A Corinti ha ribadito che un piano d'emergenza non esiste, un po' come è avvenuto nel caso degli alluvionati, come potrebbe accadere in caso di sciagurati eventi sismici. Risposte non sono arrivate neppure da curie militari, nonostante da più parti c'è chi sostenga che vi sarebbero strutture ecclesiastiche in grado di ospitare i meno fortunati e i quali si è rivolto anche l'arcivescovo Cavloggero Lapiana nel suo discorso augurale di Natale. Con le ipotesi legate al Marconi, a Campo Italia e alla base militare scartate per carenze strutturali, resta in piedi soltanto la proposta legata al villaggio turistico Le Dune che pure, secondo urbanistica e la magistratura, andrebbe abbattuto. Il comune lo ha requisito e da quasi due settimane attende una risposta da Roma. Nel frattempo l'esasperazione dei migranti cresce e questa mattina una folta rappresentanza si è riunita nei locali di Palazzo Zanca dove ha civilmente chiesto l'UMI sul suo destino.